Ciao, io sono Alessandro Bonazza e sono uno dei membri di Football Identity con il progetto Digital Identity Token. Io sono Andrea Zaniboni e mi occupo principale di tutto ciò che riguarda il design all'interno del gruppo. Il nostro obiettivo all'interno degli enti sproattivi e delle federazioni è quello di eliminare l'attuale tessera cartacea che porta ad una burocratizzazione molto elevata per dare un semplice token identificativo della persona al singolo tesserato, al singolo bambino, ragazzo che gioca e fare diventare quindi questa persona un attore protagonista della federazione in modo che ha l'opportunità di accedere attraverso una piattaforma web quindi uno semplice smartphone o computer e avere molti servizi ad esso dedicato. I vantaggi per paglienti tesseranti sono la possibilità di avere una sorta di CRM come hanno le aziende e quindi controllare e fidelizzare i propri clienti.